Ieri c'è stata la sequenza di conferenze stampa legate alla via libera, alla lista dei 32 candidati al Consiglio che è arrivata invece lunedì sera dall'Assemblea del Partito Democratico. Noi ieri mattina abbiamo sentito Alberto Vanni Lazzari, abbiamo cercato di estorciargli dei commenti ma è stata un po' una battaglia persa. Quelli tanto tanto ce li ha dati i nomi, nomi niente, adesso però li trovate tutti e 32 pubblicati sul nostro sito. Insomma, sapevamo le cose basilari, confermati gli otto consiglieri uscenti che erano al primo mandato in Consiglio, 17 donne e 15 uomini, quindi confermata, anzi superata la parità di genere, alcuni nomi noti, altri meno noti, Magrini diciamo a fare da... A guidare questo rinnovamento, come si suol dire lui che è nuovo alla politica, a guidare il rinnovamento. Mentre è tagliato fuori Roberto Biagini, questo sinteticamente. Ma ieri, sia il circolo PD che Biagini hanno fatto sentire le loro opposizioni, allora andiamo con ordine. Noi abbiamo spedito Maurizio Ceccarini in entrambi i casi. Esatto. Ieri è stato il nostro... Uomo del PD. Uomo della... Adesso detto così... Fa brutto, però. Che ha seguito le questioni... Ha seguito le vicende. Anche perché se ci sente poi magari potrebbe non essere d'accordo. Esatto, allora sentiamo cosa è emerso prima di tutto nella conferenza stampa convocata per il primissimo pomeriggio dal Partito Democratico. Presenti tutti e 32 i consiglieri. Niente deroghe per chi ha fatto due mandati. Confermati gli otto consiglieri uscenti che erano il primo mandato. La lista dei 32 candidati del PD in consiglio vede una parità di genere che diventa sorpasso. 17 donne e 15 uomini. All'interno c'è anche il segretario provinciale, Iuri Magrini. Tutti gli altri sono nomi nuovi. Il discorso di partenza è stato infatti quello del rinnovamento generazionale. Sette candidati sono under 30, altri 5 under 40 di genere, ma anche nel rapporto con la società civile. Le candidature sono emerse dal confronto con i 13 circoli del territorio comunale. Non ci siamo neanche soffermati sul tavolo delle regole, dei regolamenti, le deroghe. E anche un po' tutto questo chiacchiericcio che si è manifestato nelle ultime settimane. Ma abbiamo deciso con un ragionamento forte di andare oltre, di scavalcare questi temi. Tanti elementi, generale rationalità, apertura alla società civile, scavalcamento del discorso di parità di genere. Un rinnovamento che è totale e quindi in questo quadro la squadra si è composta in una maniera assolutamente naturale, senza nessun tipo di interferenza, con un discorso molto chiaro e netto verso chi ha completato un processo, si mette a disposizione e favorisce la formazione di una classe dirigente che è la forza del nostro partito, del Partito Democratico. E dopo averlo sentito, l'abbiamo anche visto, perché chiaramente ci sta seguendo in tv, le parole erano quelle di Alberto Vanni Lazzari. Su Facebook ci sono tanti commenti di candidati consiglieri che si presentano, quelli confermati che fanno anche ipotesi su questa tornata elettorale. Insomma, la sensazione è che il Partito Democratico e liste collegate puntino a vincere al primo turno. Beh certo, questo sicuramente. Perché comunque il ballottaggio, un minimo di incognita, la mette sempre. Ricordiamo quello che è successo a Riccione, dove al primo turno Ubaldi è stato lì lì per vincere subito, e poi al ballottaggio le cose sono andate totalmente in modo opposto. Quindi insomma, credo che tentino di fare il colpo subito. Ma questo è evidente, diciamo che però secondo me è ancora presto per capire chi e come le varie forze politiche. E poi ci sono tante anche questioni extra politiche che possono spostare quel minimo di voti, che però possono fare la differenza tra una vittoria al primo turno e un ballottaggio. E già, proprio così. Sappiamo che ci sono tante questioni in sospeso. Si va a votare il 5 giugno, ricordiamolo, perché si va a votare anche domenica. Dalle 7 alle 23, ed è sempre quello l'orario standard. Sì, esatto. Come domenica per il referendum. Come domenica, esatto. Noi lo diciamo perché insomma ci sembra importante. Però dicevamo c'è... Tra l'altro volevo sottolineare una cosa prima di far sentire la voce di Biaggini. Scusa se ti interroppo sempre. Che ieri abbiamo parlato di questa quasi unanimità alla via libera della lista. Sì, quasi però. Ci sono state due astensioni. Noi ne sappiamo uno. Una è quella del ex consigliere, ex capogruppo del Partito Democratico Agosta. Che insomma forse era anche abbastanza attesa viste le polemiche delle ultime settimane. L'altra non lo sappiamo. Credo che ieri in conferenza abbiano detto che non avevano sotto mano i nomi. Credo, però non voglio dire cose... Due si astengono. È impossibile che tu non sappia. Due però su tanti magari poi ti sfuggi. Vabbè, sì, diamo questa ipotesi, diamo il beneficio del dubbio. Comunque, dicevamo, si è aperto o non si è aperto il caso Biaggini. Ieri mattina un po' anche avevamo provocato su questo il segretario comunale del Partito Democratico. Che bravo, non si scompone. Non si era scomposto perché ieri mattina si sapeva appunto intanto che Biaggini non sarebbe stato in lista ma anche che Biaggini alle 11 avrebbe fatto una conferenza stampa proprio per... E non ci ha voluto anticipare nulla. No, esatto, per scelte, anche per correttezza forse insomma. Aveva deciso di parlare tra l'altro anche con un testo scritto nell'occasione delle 11 e quindi poi solo in tarda mattinata si è appresa un po' la situazione. Devo dire che quando ci si lascia ci sono tanti modi per lasciarsi. Ci sono tirarsi piatti, buttare via le cose dalla finestra, tirare fuori gli scheletri dell'armadio oppure lasciarsi insomma in modo civile. In questo caso direi che Roberto Biaggini tutto sommato è stato un signore. nel senso che quando ci sono tanti aspetti legati anche all'attività amministrativa lui aveva già chiarito che non era interessato a proseguire benché credo fosse questa l'ipotesi che era stata prospettata dal sindaco come amministratore cioè come persona seduta in giunta, quindi come assessore. E ha anche detto che in realtà a chiedergli di candidarsi tra i papabili per la lista erano state persone all'interno del Partito Democratico. sta di fatto che sembra che la sua presenza avrebbe messo in discussione una serie di partite importanti. Allora dicevamo ieri mattina Biaggini ha spiegato un po' la cosa non alzando i toni della discussione, forse poi insomma comunque coeso a quelle che sono le politiche anche del suo partito in rispetto al suo partito al di là insomma dei problemi personali che ci possono essere stati e quindi con toni pacati ha voluto ripercorrere la vicenda dal suo punto di vista incontrando la stampa in un bar di Viserba che è un po' il luogo da cui Biaggini viene e ha anche sempre tenuto in profonda considerazione in questi anni di suo mandato. Allora sentiamo che cosa ha raccontato al nostro Maurizio Ceccarini. A testimoniare stima Roberto Biaggini c'erano amici e anche ex consiglieri di opposizione ai tempi della sua presidenza in quartiere. Niente candidature o liste alternative. Biaggini torna a fare l'avvocato. L'esposto in procura sugli appalti Acquarene e Tecnopolo era un atto dovuto che amministra a dovere innanzitutto nei confronti dell'autorità giudiziaria ma sulla causa della sua esclusione Biaggini si attiene a quanto riferitogli al termine di una proposta dice non adeguatamente soppesata. Conoscendo il circolo di Viserba il segretario comunale, il segretario provinciale la mia intenzione di finire l'esperienza assessorile con la fine del mandato Gnassi 2016 da Viserba mi è stato chiesto esplicitamente di pensare di dare una mano per disporre la lista per il consiglio comunale alle prossime amministrative questo qui già a dicembre del 2015 in quanto c'erano delle istanze territoriali viserbesi che necessitavano a detta del circolo di Viserba dell'esperienza che in questi anni ho raggiunto amministrativamente mi sono riservato poi ho dato la mia piena disponibilità al circolo al segretario provinciale e al segretario comunale di poter essere inserito, come loro hanno richiesto nelle liste per il consiglio comunale il segretario comunale mi ha semplicemente detto che dovendo sintetizzare le istanze che provenivano dai circoli le valutazioni politiche e le richieste del sindaco con un mio inserimento in lista da parte del partito democratico il sindaco non avrebbe firmato l'apparentamento poi dopo i motivi se vuole vi dirà direttamente Vanni Lazare io ho preso atto ho detto va bene, non c'è problema potevate fare a meno di chiedermelo prima adesso chiaramente riprendo a pieno titolo la professione forense poi per la politica come dicevo se uno sarà nel DNA anche giustamente a livello amministrativo locale quello che ho sempre fatto io darò sicuramente una mano conoscete la mia storia la storia di mio padre unimi recluso la storia da parte di madre il segretario mio nonno è stato il primo segretario del circolo di Viserba una volta a sezione del PC quindi è difficile staccare però posso contribuire esternamente ben volentieri sulla pagina facebook di Biagini è tutta una sequenza di attestati di stima che arrivano tra l'altro da qualsiasi parte politica da esponenti del Movimento 5 Stelle ma anche della centrodestra della destra anche un pochino più spostata a destra a molto a destra ne arrivano veramente tanti la maggior parte insomma direi quasi il 98,8% e molti cittadini di Viserba dicono appunto che Biagini è una brava persona anche questo suo uscire di scena ma lo sentivamo anche dalle sue parole pur immagino quando uno si impegna è chiaro che forse è un po' di amarezza a vedere un po' concludersi un percorso ma secondo me insomma la politica nella vita di Biagini continuerà ad esserci magari su altre strade una piccola precisazione perché poi è arrivata nel corso della giornata sia la parte del sindaco che ha parlato nella conferenza del PD e poi a sua volta una risposta da parte di Biagini a Biagini come ad altri assessori era stato proposto di continuare in giunta a fronte di una lista in formazione improntata al forte rinnovamento che è quella appunto che è stata poi presentata ieri questo l'ha detto il sindaco alla conferenza del PD quindi a Biagini come ad altri era stato detto non vi mettiamo in lista però per voi c'è posto come assessore Biagini aveva già chiarito più volte che non avrebbe voluto continuare dopo due mandati da assessore in quel ruolo ha detto che la proposta l'ha effettivamente ricevuta ma senza che si parlasse di liste o candidature infatti insomma questa è per dovere anche perché insomma la sua candidatura sembra che avrebbe appunto messo in discussione apparentemente con le tante liste civiche che stanno spuntando un po' come funghi in questi ultimi giorni proprio così ieri si è presentata più o meno alla stessa ora del partito democratico la lista Rimini People yes Rimini People una presentazione all'aperto sì un posto molto bello tra l'altro Ponte di Tiberio una lista che riunisce persone di varie estrazioni sì tutte tutte in ambito di sinistra esatto tutte che vengono dall'esperienza di sinistra insomma a sinistra del partito democratico che puntano proprio a creare un'alternativa a sinistra per il governo della città presente naturalmente la candidata sindaco Mara Marani poi tu hai sentito anche se non sbaglio Benaglia Giovanni Benaglia sì che viene dall'esperienza di Rimini Possibile ma lui se non sbaglio è stato anche consigliere tra l'altro avvocato no commercialista 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 esatto tra l'altro proprio da questo suo lavoro ha anche un po' incentrato quelle che sono le politiche di questa lista perché io sono un commercialista vedo tutti i giorni quello che capita e vedendo che ci sono alberghi che fanno insomma un dibattito continuo a questo 25 euro a camera è impossibile perché da qualche parte i soldi poi devono comunque le tasse da non pagare le persone che lavorano in nero quindi insomma su questo loro hanno puntato molto anche su tanti altri temi di carattere sociale ma perché dirlo a voce quando ci hai fatto un servizio perché questo non c'era dentro il pezzo se non sei ma però hanno parlato un'ora e mezzo cioè è difficile sintetizzare tutto in due minuti se non sei in grado di sintetizzare vediamo allora come hai fatto poi ti do anche un voto sul pezzo sentiamo giustizia sociale inclusione accoglienza lotta all'abusivismo e al lavoro nero risposta all'emergenza abitativa sono alcune delle parole chiave della nuova lista Rimini Pippoli il candidato sindaco è Mara Marani 68 anni pensionata 44 anni passati nella scuola la maggior parte come dirigente scolastico a Bellaria negli ultimi tempi si è avvicinata alle istanze sociali che i vari soggetti coinvolti nella lista rappresentano folgorata dall'idea di dover fare perché avevo fatto per tanti anni tutto a scuola cercavo di lavorare molto e la pensione mi aveva dato un senso un po' di disorientamento l'idea che potevo incontrare delle persone giovani stare ancora con delle persone giovani aiutare anche chi aveva bisogno mi dava un senso di appagamento che mi è piaciuto molto ma era un senso politico non era un senso solo sentimentale ma mi piacerebbe essere il sindaco dei poveri non so se basta però non certo escludendo le altre cose però mi vengono in mente le periferie mi vengono in mente i poveri mi vengono in mente i senza caso e mi piacerebbe dare un contributo a questa città mi piacerebbe che Rimini diventasse quasi un esempio di città della pace di città della solidarietà non è casuale la scelta del luogo è il ponte di Tiberio Mara è un ponte fra tutte queste esperienze politiche che partono da valori condivisi che però a un certo punto hanno il modo di declinarli nella realtà diverso ecco Mara ci tiene insieme tutti è Benaglia a spiegare quale sarà il primo atto qualora andassero al governo il primo atto che approveremo sarà un regolamento comunale che prevederà che tutte le attività economiche che usano beni pubblici quindi che hanno concessioni o licenze pubbliche nel caso vengano scoperte con lavoratori in nero che non rispettino le regole ecco queste attività economiche verranno revocate le licenze o le concessioni pubbliche che hanno tra i protagonisti Alessandro Cavuoti ex presidente della moschia di via Giovanni XXIII che parla del valore dell'accoglienza Agnese Coss ex dirigente di SEL Claus del collettivo studenti che propone il trasporto gratuito sui mezzi pubblici per chi va a scuole Federica Montebelli che racconta l'esperienza di casa Don Gallo attualmente la struttura accoglie 44 persone in difficoltà e venerdì scade la concessione che il comune non intende rinnovare per Manila Ricci esponente di casa Madiba una delle priorità è lavorare sulla sicurezza sociale oggi ostaggio della politica della paura e sulla sua candidatura spiega fino ad ora la sinistra in città ha solo saputo abballare le scelte del PD alla domanda sul perché non si sia riuscite a creare una forza coesa di sinistra risponde Benaglia ci abbiamo provato noi siamo aperti siamo aperti chi vuol venire noi siamo qui per accoglierli questa è la presentazione ti dirò in un clima molto molto gioioso mi sono documentato visto Mara Marani appunto ex dirigente scolastica a Bellare ma è stata anche assessore nella giunta Fabri e ho letto che quando è scaduto il mandato Fabri si doveva decidere se candidare Scenna ci avevano pensato tra i candidati e Scenna è una donna che ha questa esperienza si vede anche molto attiva sì chiaramente nei colori è molto particolare questa lista nei colori anche visivi proprio di persone che effettivamente arrivano da esperienze molto diverse e la cosa anche particolare che poi anche alcuni colleghi hanno sollecitato un po' lo sentivamo nel servizio anche nei confronti di Manila Ricci le hanno chiesto da donna di lotta donna che comunque tende poi a entrare in una realtà istituzionale lei proprio diceva questo insomma quando vedi che tutte le anche le proposte di sinistra fino a questo momento non sono mai riuscite a corrispondere a quelle che erano un po' anche i tuoi moti interiori di impegno sociale e alla fine poi magari arrivi anche ad un certo punto in cui decidi di provare ad impegnarti personalmente comunque un cambiamento insomma non poco significativo tra l'altro sentivo dalle parole di Benaglia porte aperte eventuali altre liste dell'area perché c'è in ballo anche la questione Rimini in comune infatti c'è da dire che si pensava è stato molto diplomatico è chiaro che anche all'inizio Davide Cardone che un po' ha tirato le righe ieri in conferenza stampa quindi ha dato la parola a diverse persone proprio però ha iniziato dicendo adesso comincerete subito a pensare ad una spaccatura della sinistra ad una lista in realtà no non prestiamo il fianco a questo tipo di polemiche la nostra è una lista inclusiva per cui insomma poi chiunque volesse parteciparvi le porte sono aperte però come dicevamo è attesa poi vedremo se ci saranno altri sviluppi ma almeno fino a qualche giorno fa era attesa una lista di sinistra che raccogliesse un po' l'esperienza della federazione della sinistra quindi già abbiamo alcuni nomi all'interno quello di Savio Galvani di Sara Visintin al momento ancora in realtà ieri c'era un altro incontro ieri sera credo ci fosse in programma una nuova assemblea vedremo se è emerso qualcosa magari si sarà discusso anche di questa nuova lista che è nata probabilmente sì probabilmente poi questa nuova lista ha preso più di sorpresa a noi che loro perché forse avendo anche avuto un percorso diciamo fino a un certo punto parallelo la cosa era nell'aria anche perché loro ma anche questo poi si saprà nei prossimi giorni parlano anche di un'altra lista di sinistra che invece andrà in appoggio forse uno o due in appoggio ad Andrea Agnassi che vede insomma protagonista esempio ieri ho sentito il nome di Mangianti insomma di persone di questo ma vedremo perché ancora credo che avremo dei list da presentare se vogliamo seguirli tutte Andrea sarà un impegno ci proviamo io mi prendo le ferie no non puoi come no no non si può fino a quando non sono tutte definite non ti mando in ferie sono 200 ma sì ma c'è il senso 200 non esagerare quindi questa ogni giorno questa è la pagina politica diciamo era interessante seguire un po' tutti questi tutti questi aspetti sì si rischia un po' di perdere io tra un po' penso che mi confonderò un po' noi stiamo facendo degli schemi avete presente quei cartelli dove mettiamo tutto come come nei film polizieschi esatto nei telefilm mettiamo le fotografie qua alle nostre spalle adesso metteremo una lavagna ma sai che sarebbe bello un pannello con le fotografie le liste poi facciamo tracciamo anche le righe questo sostiene quello è bello se siete d'accordo mettete un mi piace sulla nostra pagina facebook di Tempo Reale e noi faremo il cartello entro domani esatto anche col vostro nome per premiarvi non promettiamo ai candidati che non mettiamo foto segnaletiche che non hanno giustamente però mettiamo delle foto simpatiche di cui potresti pentirti no delle foto simpatiche simpaticissime ma cioè vabbè troviamo delle foto simpatiche no sui social network poi quando arrivano le elezioni sono tutti simpatici ma no ma sì 9 e 26 minuti prendiamoci una pausa Tempo Reale di Tempo Reale Grazie a tutti.